Tuffo a Moncoloi il tuffo questo tuffo è un ricordo di un nano Elia Silas io ne voglio cos'è? non si butta male non faccio così non lo faccio è molto male sono tutti uguali Tuffi che fai te? a Capriolo che schifo una rotolata intera oh Dio guarda che schifo guarda che schifo mi fa tutti uguali tuffi raga mettete di like al video e non commentate grazie te ti trovo io la mente tutto bene ok prossimo tuffo cosa quanti sono? te ne mancano due oh fai vedere siamo anche vicini siamo anche vicini ai 2005 sei pronto o no? sei pronto o no? si vai un altro un po' si può e te parti con un pazzo alla pokemon go alla pokemon go fai la pallina che salta e fai l'uovo ma ciali salta 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 vai vai poi duccia senti Lia che non parla più dai l'ultimo ritira tutto con la testa con un cugino bongo mai 360 ragazzi 360 oh l'ha fatto chiuso affogherà sicuramente perché guarda lo sta succhiando il mare però è andato anche 360 finisci con un salto qui fai l'ultimo salto quello che hai fatto prima fammi un salto qui e poi ti ributi e basta ti ributi ma ciali salto non ti ributi che vuoi che vuoi che vuoi parla che vuoi 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 Grazie a tutti